Prima che inizi questo video abbiamo un annuncio da fare Abbiamo pensato di fare per i 30.000 iscritti una live speciale E di ripetere queste live al raggiungimento di ogni 1000 nuovi iscritti Siccome ce le chiedete tantissimo Ci è sembrato un modo carino per festeggiare tutti assieme ogni piccolo traguardo Esattamente, in basso o in alto a destra non so bene dove comparirà Credo in alto Credo in alto a destra Ci sarà un bottoncino che potete premere E lì comparirà il sondaggio per farci sapere appunto se vi piace questa idea E se volete le live Ovviamente però ragazzi non andranno ad intaccare l'uscita dei video Quindi usciranno sempre i video Esatto Semplicemente saranno delle live extra ogni volta che facciamo 1000 nuovi iscritti Vi lasciamo con i video ragazzi Gentili tu l'hai ripetata Nooo Io non ci credo, io non ci credo Dannazione Perché? Devono capire Che succede? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Mister Mime Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Adesso sai cosa facciamo? Dimmi Tu lo acchiappi e poi mi dai il mio telefono perché lo voglio assolutamente E ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Pokémon GO Oggi stiamo tornati al Poeta e abbiamo anche un ospite La voglio far vedere Ok Ciao Nami Ciao Nami Ciao Nami Primo Pokémon almeno carino Poliwag Ok In realtà ho perso anche un Weedroll che a noi fanno sempre comodo Perché se ora rimane deciso di scappare Oh che cattivo Che antipatico Allora Poliwag smetti di fare tutti gli tuoi tacchini stupidi che qua non abbiamo tempo da perdere con te Stiamo cercando roba ben più rara Capito? Quindi sei proprio il minimo di oggi Ok è rimasto Ha fatto da bravo È visto Caramelle di Poliwag ce ne servono 100 per la terza evoluzione Ne abbiamo 19 Ma Chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è Uh Ma l'abbiamo mai trovato questo? No No Uh che bello Nella nostra zona non si trova mai Allora vieni all'ombra che lo voglio vedere meglio Aspetta vieni Nami Ok Che bello Mamma mia non me l'aspettavo così all'improvviso Sì neanche io Non avevo visto neanche nei dintorni spam così A volte sta capitando anche a me lo sai Che trovo Pokémon fighissimi ma non sono sognati nei dintorni Mi è capitato giranzolando per la città E vedi tutta questa zona è una delle zone dove siamo messi peggio Spam Wow 13.50 Vabbè E' un inizio E' uno zuba Allora zuba te lo lasciamo lì Dai 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 non ce ne fregano Ma ci riusciamo di prenderli Esatto Adesso nei dintorni abbiamo Squirtle e Psyduck Quindi Squirtle lo sarebbe male Non è che Drowsy l'abbiamo trovato Non ho visto se aveva intorno alla Roma Perché ragazzi col sole si vede poco lo schermo Sì esatto Magari aveva intorno il coso del profumino Quindi abbiamo trovato tramite la Roma in questa zona Perché in effetti nei dintorni mi sa che Potrebbe essere Potrebbe essere Nel caso bellissimo Primo Pokémon utile di oggi Siamo andati a 101 E se li contiamo Da lì in poi Dato che eravamo a 100 giusti giusti Da lì in poi li contiamo Una a una Perderemo il conto dopo tre Pokémon Te lo dico già No Se l'ha detta il contare a quanti siamo Allora No mi conta i Pokémon Ok Abbiamo due Psyduck Uno da fianco all'altro da prendere Aspetta perché Non ci riesco col pollicione Vuoi una mano? No no Ce l'ho fatta E che ti aiuti Sto usando l'ultra ball perché Tanti ne abbiamo un sacco E questo Psyduck da 570 Sinceramente lo voglio tantissimo Torna tutto a destra Che non si sta mai Che ci investano Allora Preso il primo Hai avuto paura dopo l'ultima volta Ascoltami Preso il primo E siamo a 38 di 50 Ok Questo qua è un Psyduck da 570 Che è voluto Dovrebbe diventare fortissimo Vediamo l'altro 540 Siamo lì Tutti e due fortissimi Allora Che mica male dai Buono Voglio tirare le Pokéball col pollice È insopportabile Eh lo so Uno Due Due Andata? Sì Ok Perfetto L'opsyduck quindi Stai caramelli è fatta in un secondo Così E ci avviciniamo A un'altra evoluzione Che aggiungerà Al nostro Pokédex Il 41 di 50 Uuu Il primo Magikarp della giornata Wow Non so perché ogni volta Alla fine che veniamo qua Non ne troviamo così tanti Magikarp Vero Vero Li troviamo più vicini In una piazza che c'è vicina A casa nostra L'avevamo anche già detto Che poi vicino Per modo di dire Però lì nella fontana Se ne trovano fisso Qui vieni qui al mare E non trovi un Magikarp Giustamente E poi scappano un sacco Guarda Per essere Un po' che vengono Che bello Il mare Che guarda a destra Piango Questa è arrivata con la Roma No questo è arrivato Con i gelatini Lì Ha sentito anche lui Odore di gelatina Ah quindi era in zona Stava facendo la fila Per il gelato Anche secondo me E l'abbiamo acchiappato Assolutamente sì Vero che di Jigglypuff Secondo me Non siamo messi No 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 Aspetta no Fermiamoci Fai da brava Sei pure verde Perché sei uscita Su Non lo so Uno Due E tre Che carino Che carino Ok 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 Lo adoro tantissimo Dicevo che non dovremmo essere messi malissimo con le sue caramelline Ok no 21 di 50 Ok no Siamo messi malissimo Ne dobbiamo mangiare di pagnotte Neanche a metà guarda Quindi siamo messi malissimo Dobbiamo mangiare ancora tante pagnotte prima di trovarla Squirtle di nuovo nelle vicinanze Che vorrei tantissimo trovare per iniziare ad accumularlo Perché siamo ancora messi male con Squirtle Ah certo E poi un altro Magikarp E vediamo un pochettino Però da nulla di raro ragazzi Ci toccherà camminare velocissimi Secondo me sta portando sui ganami Ma no Lei è felicissima Guardate com'è felice Nami Può essere felice Può vedere cosa sei felice Nami Può anche essere felice Non si vuole girare E' timida Dice che una vip Non si vuole far riprendere Perché è troppo importante Nami C'è C'è E' felice E' felice Stiamo per arrivare a quel parchetto Dove secondo me compariranno un altro po' di Pokémon Quindi tieniti pronta Ok Proprio devi essere concentrata Immaginati un Pokémon Proprio come se spucasse Boom Squirtle Ok Non male Non male Allora 540 Uh bello Ci da casare un Ultra Ball Andiamogli una bacchetta Comunque guarda quanti Ultra Ball abbiamo 79 e 165 Megaball Pienissimi No Guardalo Come minimo adesso resti Che carino 540 Sei il più forte di sempre 1 2 No No Non scappare Bravo Uh aiuto Mi ha fatto davvero E' troppo carino Come dalle tettate Tieni una bacca Come ricompensa per non essere scappato E adesso resta qua E' carinissimo No non si gli fa i complimenti Capisci di essere prezioso Mi ha fatto troppo ridere E continua a scappare E' troppo carina Vedi Vedi Dai Non sei brava a catturare Pokémon No no è Squirtle che si fa Si fa desiderare Mangia una bacca Vai E prenditi questa Davvero? Vuoi saltare più volte? Davvero? Brutto testone Andiamo Guarda 1 Sì vabbè Mu esce Eccolo Scappato Ecco qua Nami Ti ha guardato malissimo Poverina della serie Ma cosa vuoi da me? Eh lo sappiamo tutti Cosa vogliamo da te Mia cara Stai portando sfiga Neanche Squirtle Da 5.40 Ci puoi prendere Non ti vergogni Un pochettino? La stai facendo Rimalere male Con quel tono Vergognati Un male che Poi ci vede ridere De tranquilla Ma cosa vuoi da te Poi ci vede ridere Poi ci vede ridere Poi ci vede ridere Guarda chi c'è Ho visto Vai via Mosca Che carino Allora 277 Bacca Perché sei bellino Nella bacca la diamo in base alla carinezza Carinezza? Sì Allora in base a A quanto son bellini Esatto Va bene uguale Va bene uguale Ok meno male Controllo che non arrivi Gente da dietro Tutto a posto Ok Allora Sì che poi ci sono bici ovunque Un po' difficile Mettersi da qualche parte Perché ci sono anche Nella pista pedonale Quindi un po' Sì Non so più dove mettermi Sì Una Andata? Due Tre Ok la prima volta era uscito Quindi era morto di infarto Mentre tu parlavi Delle bici Ogni volta escono e scappano Questi disgrazioni Esatto Quindi per fortuna è andata Per fortuna Ok Sei di 25 Quindi non male Guarda quanta roba bella abbiamo in zona Oh mio dio Chi c'è chi c'è chi c'è Di qualunque cosa Così all'improvviso Allora Andando di precisione Lui 500 E tu sarei tosto da prendere Buonissimo Con un ultra ball Cosa mi dici? Tieni Guarda che bel dono Che ti facciamo C'ha la testa talmente gigante Che è impossibile mancarlo È impossibile Sì Lui si è occupato Dallo schermo No Ok Ok Mamma mia che ansia Parliamone meglio Io ti do una bacca Che ti piace No Non si attacca Guarda come ti fa Spim Di lato Con eleganza Spim Faccia da bravo Una Vai Due Sì Andata Ok Ok questa è una bella cattura Ce l'avevamo già Perché non mi ricordo Quando l'avevamo trovata una volta Però è una cattura bellissima 6 di 50 Ci verrà una vita E adesso ci prendiamo slow puck Ci arriva qualcosa? No Tutto a posto? Perfetto Anche slow puck Non lo troviamo minimamente mai Noi Quindi non è male Infatti credo che caramelle Per portarla avanti Poi siamo messi malissimo Dai Usiamo un ultra ball Eh Ne sci fa Di no Di no Cioè Ne sci fa Un salto e due attacchi di fila Se vuoi stare un po' più calmo Andiamo Ok Non sto camminando Perché tanto rimane Capito? Ok L'ho già deciso io Ok ma l'altro chi era l'altro? Infatti è rimasto E gli altri due Senshu e Nidoran Ah vabbè Nidoran non è male Senshu No certo Infatti 10 di 50 slow puck Infatti Nidoran adesso la prendo Però ne mentre continuo a camminare Perché sinceramente Anche se ci lascia Ci abbandona Chi se ne frega Chi se ne frega 11 di potenza Indovina un altro slow puck Ah non male Che ti devo dire Sì sì li immaginiamo così Però adesso Megable Niente ultra ball La prima volta che ti troviamo C'è anche un po' di felicità Alla seconda Non ce ne frega già più nulla di te Giusto? Eh sì Ci ha portato l'entusiasmo Esatto Una Due Tre Andata Oh yes Andata 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 Stiamo facendo una bella caccia Dai Non qualità ma quantità Sì Sì Sei d'accordo? Sì 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 Decisamente sì 13 di 50 Ok Adesso nei dintorni Niente Il meglio che già abbiamo è Caterpie Per intenderci Quindi Per un po' dobbiamo camminare e basta Uh che carino Lo so Che carino Finalmente che ha avuto Che carino Allora sta scattando come una stessa cosa Credo che ci siamo Uno Ti ho dato pure una caramella Due No 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 Aiuto 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 Che ansia Che ansia che ansia Allora la caramella non ti la do più Perché hai fatto da cattivo Noi ti avevamo donato una caramellina gratuita Proprio per essere gentili Tu l'hai ripetata No Io non ci credo Io non ci credo Dannazione Perché? Devono capire Che succede? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Mr. Mime Non ce l'avevamo Mio dio che bello L'avevamo trovato Non si sa quante volte nei dintorni Mai riusciti a catturarlo Guarda qua Che carino Dai C'è andata bene Dai stavamo perdendo le speranze Perché stiamo camminando qua sotto il sole Da tantissimo tempo E abbiamo almeno avuto il premio E abbiamo almeno avuto il premio Mio dio che bello Aspetta È il momento di catturarlo col tuo Sì assolutamente Ti prego Accedi e catturamelo su Ma non appare guarda Perché con la fortuna che ho Probabilmente non appare Sono finiti i 15 minuti Sono finiti Sì Dai Ti prego No non puoi Eccolo Prendimelo Ti prego Allora dimmi che è scarso Perché altrimenti Allora tengo il tuo telefono Perché ti devi preoccupare No è forte Ti è uscito molto più potente Ho notato Allora il suo era da 150 Vero il mio è da 323 Ragazzi è fortissimo Ho mancato Oh no ti prego Ho rimancato Ti prego Allora se scappa questo Non si capisce Quando fa un attacco E quando no No infatti Di nuovo Allora aspettala Aspettala Ok Ok Allora Ti dico che se mi scappa questo Il regguito dalla vita Sto per sempre E me ne vado È scappato È scappato Sto per piangere Perché ho questa sfortuna Ragazzi ditemelo Perché Eh non lo so Io ho finito la memoria Bene Indovinate un po' Si è spenta la videocamera Ormai succede quasi sempre La solita fortuna Di 2 players 1 console Non è un caso Perché ragazzi Per questo episodio Credo che siamo rimasti Tipo una cosa come 1 ore 20 A camminare E catturare pokemon Perché ormai diciamo Che siamo arrivati A un punto In cui abbiamo davvero Tanti pokemon Siamo arrivati Additura a 103 Del pokédex Quindi per creare Un episodio speciale Ogni volta Dobbiamo Diciamo Lavorare di più Perché ormai C'è poco Ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo domani Ciao Ciao